Due ordigni inesplosi, corrosi dalla salsedine e danneggiati dalla furia del mare, sono stati rinvenuti a Pellero, nella periferia sud di Reggio Calabria. Sul posto è intervenuto il personale artificiere della Polizia di Stato, che ha provveduto a far brillare le due granate d'artiglieria tedesca da 88 mm, contenenti in totale quasi 2 kg di tritolo. La Procura di Reggio Calabria ha chiuso le indagini per l'ex consigliere regionale Santi Zappalà per voto di scambio politico-elettorale aggravato dalle modalità mafiose, a sei mesi dall'operazione Reale 6, che gli costò l'arresto. Fra i destinatari dell'avviso a comparire, anche il nome di Domenico Arena, indicato come espressione delle cosche della Piana, che avrebbero offerto appoggio elettorale a Zappalà. Strumenti musicali del valore di 150.000 euro destinati alle attività di una onlus sono stati sottratti da un immobile di Nicotera confiscati alla Cosca Mancuso e destinato a diventare un laboratorio musicale. Mani ancora ignoti hanno rubato 38 violini, decine tra clarinetti e sax, chitarre elettriche e classiche, amplificatori ed altri componenti elettroniche e musicali destinati al laboratorio progettato in base ad un accordo tra Comune e di Nicotera, la Scuola Vespucci di Vibo Valenza e il Conservatorio Torre Franca. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato un sessantenne Bruno Nicola Labate di Roma, che deve scontare una pena definitiva di 4 anni per truffe e peculato, per fatti accaduti nell'agosto del 2010. I militari hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio. E di due persone il bilancio dei feriti in un incidente stradale avvenuto a Botricello in pieno centro abitato. Da quanto appreso, il sinistro ha coinvolto una Renault Clio e una Scenic, che si sarebbero scontrate frontalmente e violentemente, tanto che uno dei coinvolti è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte, estratto ancora vivo, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Soccorsi e trasportati in ospedale, i feriti entrambi residenti nel centro, in provincia di Catanzaro, sono stati dichiarati fuori pericolo. I baschi verdi di Reggio Calabria hanno individuato alcuni commercianti extracomunitari dediti alla vendita di capi di abbigliamento riportanti noti brand italiani ed esteri contraffatti, un'attività che ha consentito di sorprendere due persone, di cui uno ha impermesso lavoro degli arresti domiciliari, in uno dei tanti mercati rionali reggini, intenti alla vendita di centinaia di scarpe riportanti note griffate, nazionali e internazionali. Entrambi sono stati denunciati alla Procura Regina. Grazie a tutti.